Palla che passa dentro D'Oprado, inserimento, il sinistro e pallone fuori, che occasione per il Cesena Adesso De Feudis prova con il destro, Agliardi c'è D'Oprado perde palla, guffa, gran destro Palla che sfiora il palo con Antonioli che sembrava comunque sulla traiettoria Palla verso Bucchi, il tocco di prima, bello per Giaccherini, sta salendo dall'altra parte anche a Schelotto Va Giaccherini, uno contro uno, Giaccherini limite dell'area di rigore, Giaccherini sinistro! E palla di un soffio al lato A destra Cesar, il cross dentro per Ciani! Colpo di tacco di Ciani Italiano, Ciani, tocco di prima Di Nardo, lascia scivolare il pallone, è rapito, sinistro! E palla di pochissimo al lato Prova il Padova, dentro Soncine! E il gol di Soncine! Al trentasettesimo minuto, si sblocca la partita! Qui rivediamo il lavoro sulla fascia di Totò Di Nardo, grande spunto, palla dentro, vediamo se era fuori gioco Lo sai che Daniele era fuori gioco? Fischia l'arbitro con grande puntualità Tre punti per Sabatini Nessuno per Bisoli Vince il Padova, grazie al gol di Soncine Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti.